Il trovato senza vita è il 48enne Comasco, scomparso sabato scorso in Alta Valle Camonica. Test salivari a campione e tracciamento, le due strade parallele per la riappertura delle scuole in presenza. 200 persone identificate alle rave party organizzato lo scorso weekend a Verola Nuova e chiuso dalla polizia, denunciati gli organizzatori. Ultime ore di mercato per il Brescia e ultime ore per l'ultimo arrivo che potrebbe essere Antonino Gallo da Lecce. Per creare opportunità e affiancarti nei tuoi sogni e nelle scelte di vita. Ti aspettiamo in BCC Agro Bresciano. Ci riconosceremo al volo. Sopparso sabato in Alta Valle Camonica. E' stato ritrovato senza vita attorno alle 10.30 di lunedì mattina l'uomo disperso dal sabato scorso in Alta Valle Camonica. Aveva 48 anni, era di Como, ma era residente a Rino di Sonico. Oggi l'elicottero di Regione Lombardia ha portato in quota numerose tecnici del Soccorso Alpino, Quinta Delegazione Bresciana e del Soccorso Alpino Guardia di Finanza, grazie anche a una convenzione che permette di ottimizzare le operazioni e i tempi degli interventi. C'è stato anche il supporto dei Vigili del Fuoco nella parte di coordinamento e di logistica. I soccorritori hanno ritrovato l'uomo in un canale particolarmente impervio nella zona di Ercavallo, ad una quota di circa 2.700 metri nel territorio del comune di Ponte di Legno. La salma è stata recuperata e portata nella camera mortuaria dell'ospedale di Edolo. Apriamo la pagina dedicata al Covid-19, andiamo sul nostro sito internet per vedere i dati diffusi come sempre da Regione Lombardia. Eccolo qua, livebrescia.tv, vediamo la grafica dove possiamo vedere come ogni video di settimana, come ogni lunedì, i tamponi processati sono veramente pochi, 9.522, 140 i positivi totalizzati in tutta la Regione, 1,4% il tasso di contagiosità a Brescia, a Brescia ci sono stati nelle ultime 24 ore 30 nuovi positivi, il secondo dato in Regione dopo Milano che ne segna invece pochi di più, 43, ma come dicevamo appunto la via di settimana è poco attendibile. Purtroppo in terapia intensiva ci sono 3 pazienti in più, 3 persone in più, salgono a 48 negli ospedali dei Lombardi, 9 persone in più ricoverate nell'area medica e c'è un decesso in Lombardia, non è però nella nostra Regione. Ci si prepara comunque ad affrontare la prima scadenza importante della stagione, quella dell'avvio delle scuole e potrebbero, il presidente Brusaferro, Silvio Brusaferro ha detto che potrebbero essere tutti in presenza, ma ci sono due possibilità, tamponi salivari e testa campione delle scuole e tracciamento. Senza queste due opzioni sarà difficile continuare poi in caso di contagi a rimanere in presenza. Sentiamo. Se per i docenti e i lavoratori della scuola il Green Pass sarà obbligatorio da mercoledì, con ancora qualche nodo da sciogliere sulle verifiche quotidiane, per gli studenti non ci saranno obblighi analoghi. Per questo motivo tecnici e governo vogliono puntare sul tracciamento e un'idea sarebbe quella di effettuare testa campione. Stando a quanto riferito al Corriere dalla responsabile del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, Anna Teresa Palamara, infatti, ci sarebbe la volontà di introdurre test salivari da ripetere ogni due settimane su un campione di classi sentinella di primarie e secondarie individuate dalle regioni. Il piano dovrebbe prendere avvio con gradualità dalla prima campanella, ma l'obiettivo è di renderlo pienamente operativo fra l'autunno e l'inverno, quando le malattie respiratorie, quindi anche il coronavirus, si fanno più aggressive. I test salivari erano già stati provati anche nel Bresciano, sul finire dello scorso anno scolastico. Il via era stato nella primaria di Travagliato nell'ambito di una sperimentazione regionale. Questi test, chiamati volgarmente lecca-lecca, sono molto meno invasivi rispetto al tampone nasofaringeo e vengono poi analizzati come un test molecolare. Questo significa un'attendibilità alta, pari appunto al classico tampone. E come dicevamo, Brusaferro ha confermato la possibilità dell'apertura delle scuole in presenza al 100%, ma possibili aumenti di contagio vanno affrontati appunto con test e con tracciamento. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, e ptavoce del Comitato Tecnico Scientifico Silvio Brusaferro, ha sottolineato che l'RT sta calando e le proiezioni indicano la possibilità di un ulteriore abbassamento. Succede tutto lentamente a causa della delta ormai dominante. In Italia c'è ancora una quota di persone non vaccinate che quindi si infettano. Bisogna andare avanti con la vaccinazione, poi, continua Brusaferro, vanno mantenute le altre precauzioni, mascherine e distanziamento. I giovani stanno rispondendo bene alla campagna e questo è molto positivo, ma tendono anche più facilmente ad aggregarsi. In un'intervista al Quotidiano La Repubblica, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità parla anche di scuola. La sua organizzazione è consolidata, ha detto Brusaferro, come sempre è fatta di momenti scolastici veri e propri e momenti non legati alle lezioni. Va vista tutta la giornata dei ragazzi. Oggi, però, possiamo vaccinare sia il personale che gli studenti dei 12 anni in su. Con questo strumento potentissimo si può facilitare enormemente la possibilità di controllare l'infezione. Ad avviso di Brusaferro, la ripartenza della scuola potrebbe avere un impatto sulla curva dei contagi, ma se siamo protetti e facciamo attenzione, conclude, la possibilità di garantire lezioni in presenza, che è la priorità, è molto consistente. Bisogna comunque essere pronti con test, il tracciamento e le quarantene. Siamo alla cronaca con un rave party che si è svolto nel weekend. È intervenuta la polizia per fermare il tutto, ha identificato 200 persone, denunciato gli organizzatori. Non è la prima volta che accade, tanto in Italia quanto nella nostra provincia. L'ultimo caso, molto simile, era avvenuto nei boschi fra Serle e Botticino e alla fine anche l'epilogo è stato lo stesso. Stiamo parlando dei rave party, festi illegali, specialmente in questo periodo, ancora segnato dalla pandemia e dalle restrizioni, la cui organizzazione avviene in gran parte online e sui social, un tam-tam che nell'ambiente riesce a catalizzare l'attenzione di decine, se non centinaia di giovani, pronti a far festa tutta la notte e oltre. Questa volta il party era stato organizzato, avrò la vecchia in particolare, nella frazione di Monticelli d'Oglio, fra sabato e domenica. Evidentemente, il baccano ha attirato l'attenzione dell'agente e delle forze dell'ordine che sono dovute intervenire per riportare la situazione alla normalità. Sul posto si sono prontamente recati gli agenti della questura, DIGOS, squadra mobile scientifica UPG, e i carabinieri che hanno dapprima impedito l'afflusso di altri partecipanti e poi hanno identificato circa 200 persone individuando gli organizzatori dell'iniziativa e riuscendo a liberare la zona. Il proprietario del terreno sul quale si è svolto il rave ha sporto querela e quindi due organizzatori sono stati denunciati per aver indetto un'attività di intrattenimento musicale senza la prevista autorizzazione amministrativa e per invasione di terreno privato. Per questo motivo tutta l'attrezzatura è stata sequestrata. Lo sgombero forzato dell'area ha richiesto diverso tempo e il comune di Verola Vecchia nella persona del sindaco Laura Algisi ha comunicato la conclusione delle operazioni attorno alle 13.30 di domenica. L'abbiamo anticipato ieri è ricoverato a Cesena in gravi condizioni ma stazionari e Giampaolo Natali esponente di Fratelli d'Italia capogruppo in loggia del partito è stato ricoverato a seguito di un ictus. Vediamo. Giampaolo Natali, 55 anni presidente della commissione bilancio del comune di Brescia capogruppo in loggia di Fratelli d'Italia è ricoverato nella Stroke Unit la terapia intensiva neurologica dell'ospedale di Cesena a causa di un ictus che lo ha colpito lo scorso giovedì. Mentre si trovava a pranzo a Cervia Natali ha accusato un malore da lì l'immediato trasporto al locale ospedale poi a Ravenna dove dopo aver diagnosticato la natura neurologica lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale di Cesena dotato di una struttura ad hoc. Secondo le prime informazioni l'esponente bresciano di Fratelli d'Italia è stato colpito da un ictus a causa della dissecazione della carotide dovuto ad un trauma che ha generato un trombo della carotide al momento le sue condizioni sono gravi ma stazionarie nelle prossime ore quando il quadro clinico si sarà stabilizzato Natali sarà probabilmente sottoposto ad un intervento chirurgico l'attuale situazione clinica impedisce anche qualsiasi trasferimento in un altro ospedale raggiunto da live Brescia Giampaolo Natali si limita a dire i medici mi hanno detto che sono stato miracolato sarà una cosa lunghetta a Giampaolo un grande in bocca al lupo con tutti i migliori auguri di una rapidissima guarigione da tutta la redazione di E-Live E oggi è arrivata anche la vicinanza del sindaco, vice sindaco e del presidente del consiglio comunale di Brescia Fin dei primi minuti che hanno seguito l'annuncio del grave malore accusato da Giampaolo Natali sono stati numerosi gli attestati di stime e gli auguri di pronta guarigione arrivati anche sui social Oggi dalla loggia è arrivata una nota ufficiale che esprime vicinanza a Natali da parte del presidente del consiglio Roberto Cammarata del sindaco, del vice sindaco e di tutta la giunta Siamo in contatto e anche al telefono gli espresso il sostegno di tutti i colleghi sottolinea Camarata Posso dire di averlo trovato combattivo come sempre un ottimo segnale che mi fa credere in una pronta guarigione In questo momento di difficoltà mi preme fargli arrivare l'abbraccio simbolico del consiglio dove lo aspettiamo al più presto A queste parole hanno fatto eco anche quelle del vice sindaco Laura Castelletti Ho sentito ieri mattina il consigliere Natali Mi ha fatto piacere sentirlo reattivo e con la grinta che da sempre lo contraddistingue ha detto la Castelletti Gli auguro una rapida guarigione e sono certa che lo vedremo presto fra i banchi del consiglio comunale Adesso voltiamo pagina parliamo delle Pigliatutto perché nell'edizione 2021 è pronto a tornare e accadrà domenica pomeriggio Anche quest'anno torna il Pigliatutto a fare in piazza lo speciale mercato divenuto ormai una solida tradizione di Brescia A distanza di poco meno di un anno dall'ultima edizione slittata da marzo a settembre 2020 causa Covid le bancarelle tornano ad animare Piazza Vittoria per una domenica di curiosità e di affari Per chi non conoscesse il Pigliatutto la particolarità unica dell'iniziativa è che i venditori non sono veri i propri ambulanti anzi tutt'altro si tratta dei tanti negozi del centro storico che per l'occasione allestiranno il proprio stand in piazza proponendo ai visitatori una giornata all'insegna dello shopping con prezzi del tutto speciali la manifestazione è promossa e organizzata dal consorzio Brescia Centro che raccoglie circa 130 attività del centro storico e questo significa che di certo non mancherà la scelta e non mancheranno i prodotti di qualità per qualsiasi gusto appuntamento quindi per il 5 settembre già a partire dalle 10 di mattina e fino a sera il comune fa sapere che il mercato si svolgerà nel più scrupoloso rispetto delle norme anti-covid Una notte della prefettura diffusa proprio pochi minuti prima di andare in onda quindi poco prima delle 19 riguarda i fondi che sono stati accreditati verso il conto appunto della prefettura del ministero della transizione ecologica per la messa in sicurezza di alcuni siti radioattivi leggiamo quale prefetto di Brescia sono estremamente soddisfatto della positiva conclusione di una vicenda durata quasi due anni cioè l'accreditamento presso questa prefettura dei 6 milioni 125 mila 830 mila euro fondi del ministero della transizione ecologica da me richiesti e ottenuti alla fine del 2019 seguito del bando per la messa in sicurezza di siti contenenti scorie radioattive industriali guicate nei comuni di Brescia al quale va 2 milioni Capriano del Colle 1 milione Castelmella un altro milione Mazzano 125 mila 830 euro Montirone 1 milione e a Odolo 1 milione di euro approfondiremo la notizia poi nelle prossime ore e anche sul nostro sito internet adesso parliamo di meteo perché questa settimana è un'altra settimana all'insegna di probabili temporali diamo uno sguardo a come sarà l'inizio della nuova settimana notiamo come l'alta pressione subtropicale continuerà a insistere in modo particolare sul Mediterraneo occidentale con condizioni di caldo intenso sulla penisola iberica e temperature davvero molto elevate il promontorio anticiclonico si estenderà fin verso la Gran Bretagna favorendo quindi la discesa di correnti più fresche nordatlantiche fin verso l'arco alpino dove si verificheranno già dei temporali in estensione poi alle pianure del nord nel corso quindi di lunedì martedì temporali che potranno interessare anche parte del medio versante adriatico con un calo delle temperature quindi l'aria tornerà ad essere un po' più respirabile e anche un rinforzo dei venti settentrionali sul resto d'Italia invece il tempo sarà più stabile con caldo ancora abbastanza opprimente ma non eccessivo come si è avuto nel corso degli ultimi giorni ma per tutti i dettagli consultate l'app gratuita di Tarebi Meteo 30 secondi di pausa e poi il nostro TG Sport tantissimo sport e le ultime di calciomercato rimaniti con noi Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E-Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify Apple Podcast Spreaker e Google Podcast Care amiche da oggi si può stirare al massimo e senza pieghe finalmente è possibile Termostir creata per realizzare il vostro sogno a casa o in stireria la vostra garanzia Buona serata anche agli amici sportivi allora innanzitutto siamo ridici da un weekend di partite con la palacanestro Germani Brescia e allora subito il commento di Alessandro Magro coach della palacanestro Germani dopo la doppia amichevole con Istanbul è stato un altro test importante chiudiamo questo questo ciclo di lavoro secondo me con degli ottimi spunti ovviamente abbiamo giocato contro una squadra di altissimo livello che ci ha dato la possibilità di vedere su cosa continuare a lavorare nei prossimi giorni quello che avevamo chiesto alla squadra rispetto a ieri era di avere cura di due o tre aspetti sia offensivi che difensivi e l'applicazione è stata secondo me molto molto alta è ovvio che essendo ancora in preparazione lo staff medico fisioterapico ha voluto che non si sovrasponessero i giocatori in questi due giorni quindi abbiamo alternato dei quintetti per riuscire ad avere i giocatori al massimo 22 minuti in campo e 18 ieri questo in alcuni momenti ci ha messo un po' in difficoltà perché abbiamo passato dei momenti dove facevamo un po' di confusione ma l'atteggiamento la voglia di provare a stare comunque uniti contro una squadra di questo tipo è sicuramente positiva chiudiamo il raduno con due partite che reputo buone partite che ci dobbiamo portare dietro e sono sono sicuro che da martedì quando ritorneremo in campo avremo ben chiaro che cosa dobbiamo fare per affrontare Treviso veniamo al calcio perché sono le ultime ore di calcio mercato la campanella suonerà domani e ultime ore per il Brescia anche per completare la rosa e si parla anche di un altro arrivo inizia il countdown martedì alle 23 chiude ufficialmente questa sessione estiva del calcio mercato e come spesso accade sono proprio le ultime ore quelle da attenzionare maggiormente per eventuali colpi ad effetto o a dei last minute in casa Brescia Calcio i giochi potrebbero ancora non essere chiusi visto che in entrata si cerca un esterno sinistro in cima alla lista dei desideri c'è Antonio Gallo del Lecce per il giocatore fresco di convocazione in nazionale Under 21 i Salentini chiedono un trasferimento a titolo definitivo dal canto suo il Brescia è a lavoro per un trasferimento a titolo temporaneo nel frattempo sondaggio per Adrian Marin esterno mancino del Granada e sembra invece essere sfumata la pista Filippo Costa gli outsider sono infine De Maio dell'Udinese e Barba del Benevento ma la chiusura appare difficile in uscita si cerca una soluzione per Semprini che in queste prime gare non è mai stato convocato per lui potrebbero esserci interessamenti dalla Serie C l'operazione di sfoltimento della Rosa dovrebbe toccare anche Nicolás Spalek chiuso dagli arrivi di Leris Iaghiello e Palassio al passo di addio anche Scrub che a sua volta non trova posto nel Brescia di Inzaghi e quindi potrebbe andare all'estero parliamo di pallavolo perché c'è un nuovo arrivo nell'Atlantide pallavolo Brescia dopo tanti anni bene o male li conosco un po' tutti comunque Galliani Tiberti Cisolla abbiamo sempre o giocato insieme o ho giocato anni e anni contro e quindi più o meno li conosco un po' tutti tra l'altro un piccolo aneddoto ritrovo anche Mimmo Iervolino che al paese mio io sono di Agnone provincia di Sernia al paese mio molti anni fa era un idolo perché giocava lì a pallavolo io ho cominciato proprio seguendo le sue geste al palazzetto del paese mio e ritrovarlo qui nello staff di Brescia per me è veramente bellissimo Mi fermo qui con questa edizione del giornale vi ricordo che tutte le notizie le trovate come sempre sul nostro sito di internet e livebrescia.tv sul quale trovate anche la diretta del nostro canale 16 e 197 delle digitali terrestre e come sempre se invece volete ricevere le nostre notizie direttamente sul vostro smartphone non dovete far altro che iscrivervi ai nostri canali Telegram e livebrescia news oppure livebrescia sport e in questo caso le notizie arriveranno direttamente sul vostro smartphone grazie per aver scelto il nostro telegiornale anche stasera come sempre sigla e poi l'economia con la collaborazione di Italprese a tutti buona serata domani puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e live play del nostro sito internet puoi ascoltarla in versione podcast su Spotify Apple Podcast Spreaker e Google Podcast e l'esperut a presto e l'epoca e l'epoca Grazie a tutti.